Questa mattina, alla casa di cura aeremo di Arco, i vertici dell'amministrazione hanno esposto la situazione attuale del centro di riabilitazione. Come risaputo c'è un'aspra di atriba con la sanità provinciale, che ha tagliato un gran numero di posti letto convenzionati, con grave danno economico per l'azienda, che senza un nuovo accordo dovrà ristrutturarsi. I vertici però confermano l'intenzione di mantenere l'attuale qualità del servizio. Sentiamo l'intervista a Luis Durwalder, che riveste da poco la carica di amministratore con delega allo sviluppo. L'eremo ha questo grosso problema che la provincia ha tagliato un sacco di posti letto. Come farà la casa di cura a risollevarsi da questa perdita? Guardi, adesso dobbiamo incominciare a trattare, a vedere, a incontrarci. Io sono convinto con un po' di buona volontà da parte della provincia, da parte dell'USL, da parte del comune e anche da parte dell'eremo, troveremo una soluzione. Noi abbiamo il grandissimo vantaggio qui che erremo in una struttura sanitaria ad Arco. Tutto il comune, io penso tutti i partiti, sono d'accordo di mantenere questa struttura, perché non è solo per la gente di Arco e neanche solo per la gente trentina, ma proprio è una struttura che può essere anche esportata. E perciò il comune appoggia questa iniziativa e io sono convinto finché i politici, i comuni, stanno dietro. Recentemente abbiamo avuto anche un incontro con l'assessore Zeni e anche lui. Io sono rimasto molto contento di questo incontro. Finché loro appoggiano questo know-how, questa struttura tradizionale sanitaria, questa struttura avrà anche in futuro un grandissimo interesse da parte della popolazione, anche economicamente, secondo me, avrà sicuramente un grandissimo valore. Molti esponenti da politica locale, sia di Arco che di Riva, dicono che da Trento c'è poca attenzione verso l'Alto Garda e una dimostrazione appunto del taglio dei posti letto. Lei cosa ne pensa? Ma guardi, è sempre così. Qui, diciamo, Trento è capitale, è il capoluogo, e dall'altra parte è sempre così la periferia. Se non grida un po', se non porta dei programmi concreti, ha sempre certi problemi. Però io sono convinto, avendo questo bellissimo ambiente, questo bellissimo paesaggio, avendo tutte queste strutture primarie e secondarie per l'economia e anche per la sanità, non possono abbandonare questo territorio. Però dipende anche un po' dalla gente. La gente deve stare dietro queste iniziative e io sono convinto che il Presidente Rossi, però anche l'assessore Zeny, alla fine troveranno una soluzione che vada bene sia per Trento come anche per questo territorio. Loro dovrebbero essere orgogliosi proprio di avere queste strutture private di riabilitazione, perché questo potrebbe essere anche un punto molto importante per tutta l'economia. Se avesse questa vocazione che qui possono trovare le strutture sanitarie con un certo know-how, in un certo territorio, con tutte le strutture del turismo, allora io sono convinto che tutti dovremmo essere orgogliosi di queste strutture. E cioè quindi far funzionare insieme le case di cura e le strutture alberghiere. Sì, ma io dico, diciamo, se io fossi in Sicilia o se io fossi a Milano o anche a Monaco, se io avessi un ammalato all'interno della famiglia che è stato operato e che deve fare la riabilitazione, dopo cinque giorni dicono che devi andare a casa, io devo trovare qualche sistemazione di questa mia persona, di questo mio familiare. E se avessi la possibilità di dire a Arco c'è la possibilità di avere strutture alberghiere, strutture, diciamo, anche dello sport, eccetera, allora tutta la famiglia potrebbe venire qui per tre, quattro settimane dicendo qui, diciamo, la famiglia può passare della ferie e, diciamo, il nostro cofamiliare che ha bisogno di assistenza medica può stare per qualche giorno, metà del giorno, eccetera, in questa struttura sanitaria e del resto possiamo passare insieme questo tempo.